fermi 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 tutti perché cosa sta succedendo io ero lì tranquillamente col mio microfono il mio pc stavo per registrarmi tutta una serie di episodi belli carini simpatici affascinanti le uscite della settimana riflessioni sulla vita di tutti i giorni quando improvvisamente mi arriva uno strano messaggio vocale da chi se non dal podcast più ascoltato del podcast più ascoltato del podcast più ascoltato a tema musica d'italia taci su ha fatto sei ore di intro qua devo mandare la sigla a pezzo di merda qua scatta dobbiamo rispettare abbiamo saluto via con la sigla vaffanculo sono riccardo divigiano e ti do il benvenuto a tg kiwi il podcast a tema musica cinema e talent più ascoltato in italia ed è con una sigla del genere che i feromoni esplodono si innalzano fino al cielo e venite ricoperti di attenzioni belle parole smancerie varie vabbè la cazzata l'ho detta anche oggi no però a parte gli scherzi il groove di sta sigla oh mica cazzi vabbè al netto di questo ridò la linea al collega molecole urban e vediamo un po che cosa ci stava dicendo mi arriva uno strano messaggio vocale da chi se non dal podcast più ascoltato del podcast più ascoltato del podcast più ascoltato a tema musica d'italia messaggio dico ma che vorrà a quest'ora quattro di notte e sento questo guarda hai già capito cosa sto per fare benvenuti su molecole urban in compagnia del grandissimo tg kiwi buondì e oggi mi fa hai già capito cosa sto per fare io dico ma cosa vuoi fare ma mi fa pensavo parliamo di musica cose leggere testi leggeri perché non portiamo un qualcosa di più solido sai a me piace molto la filosofia ho detto no veramente non lo so prima volta che me lo dici cosa stai dicendo la filosofia fino a ieri parlavamo di villa banks di anna pepe mo la filosofia e vabbè che so stronzo che parliamo di anna pepe di villa banks non possiamo parlare di filosofia vabbè la filosofia mi fa perché non facciamo un episodio filosofico un episodio dove parliamo di un qualcosa di incredibile più profondo che coglie l'animo umano gli dico va bene dai facciamolo mandami un testo di quello che vuoi parlare ma sempre musica si guarda è uscita una canzone che è incredibile qualcosa di elevatissimo una cosa che mi sembra veramente un convegno tra platone aristotele dostoieschi e leopardi sei sicuro che hai mandato gli audio e tutto ciò alla persona giusta ti ricordi che facciamo podcast di musica mi fa sì 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 vai tranquillo tu leggiti il testo e capirai tutto vai tranquillo mi manda questo messaggio prendo il telefono e leggo giri in centro con la smart tutta rosa con gli strass un applauso capolavoro gli rispondono subito parliamone c'è questo livello di testo nella canzone di profondità che diventa virale su tiktok sto parlando della canzone per chi non lo sapesse tutta rosa di luke e ascanio un livello veramente troppo oltre e ho detto al buon tg kiwi guarda io l'episodio te lo faccio perché ti voglio bene perché ti ho detto che te lo facevo ma non perché sono il programma più ascoltato del 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 più ascoltato d'italia vero se l'avessi saputo prima sinceramente non ne avrei parlato perché è a un livello troppo superiore per me sinceramente parlando ti dico la verità cioè però non è che sono il podcast di filosofia più ascoltato in italia e io sono il podcast più ascoltato di musica in italia del podcast più ascoltato di musica dell'altro podcast più ascoltato di musica ma a parte tutti questi meme a parte tutte le supercazzo le mannaggia a te vaffanculo che sono stato pure al gioco a regitare idea sua è diamo a cesare qualche di cesare lo sketch è suo ho cercato rifare del mio meglio insomma morale della favola il brano in questione è una delle nuove super hit che sta esplodendo su tiktok che sta spopolando di questi due ragazzi un brano molto orecchiabile molto da tiktok leggero estivo ecco che secondo me ma mettici pure un noi sarà un grande tormentone estivo proprio grazie a tiktok dove già virale quindi traccia uscita proprio oggi 4 giugno anzi da fonti certe ti posso assicurare che anche su spotify sta andando bene vedremo cosa succederà faccio un in bocca al lupo a tutte e due gli artisti a parte il meme vediamo c'è capito come fa l'amico mio l'ipercula ci costruisce una puntata di 6 minuti di supercazzola ma poi tutto sommato in bocca al lupo no raga a parte gli scherzi comunque la al di là della notizia il pezzo me lo son sentito poi è uscito praticamente ieri oggi cioè a mezzanotte oh è bellino eh cioè io non li conosco a sti ragazzi non li ho mai sentiti non penso siano emergenti penso di sì però è bellino il pezzo mega orecchiabile unica roba a me non fa impazzire il mix cioè la voce nelle strofe tipo si affossa rispetto alla base che comunque la base è un botto groove cioè un botto di frequenze basse le medie le sento quasi affossate da tutta la produzione e poi vabbè sarò io cagaminchia tecnico probabilmente nella vita però è una vita che frequento gli studi di registrazione e produzione una cosa una cosa l'avrò imparata il ritornello è una hit assoluta cioè proprio altro che roba da tiktok questa questa va eh se estate va sta roba come lo dico eh sincero mi piace poi boh sarà che sto su milano quindi l'immagine di sta tipa con la smart rosa vabbè mi fa un botto ridere vabbè al netto di questo io ragazzi vi saluto e vi mando un grande saluto ringrazio come al solito il buonissimo tg kiwi e io saluto te amico mio ti ringrazio come sempre per questa puntata in collaborazione e beh ragazzi ci vediamo alla prossima ciao ciao